Dopo aver fatto il nostro primo commit nello scorso video, andiamo ora a vedere come si comporta Git nelle operazioni più comuni con i file, cioè cancellazione, rinomina e modifica. In questo video tratteremo anche una delle caratteristiche uniche di Git, cioè la staging area. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. La scorsa volta ci eravamo lasciati che tutti i file tranne file 4 ora vengono tracciati da Git. Vediamo ora come si comporta Git nel caso di cancellazione e rinomina di file. Partiamo dalla cancellazione. Se cancello il file file 2, devo poi dire a Git che il file è stato cancellato. Per fare ciò usiamo sempre il nostro amico TIG. Nota come adesso abbiamo la schermata divisa in tre sezioni. Changes to be committed, changes not staged for commit e untracked files. Ora, non so se hai usato altri VCS, ma una caratteristica unica di Git rispetto a qualunque altro VCS è la staging area. Quando tu fai delle modifiche, siano queste aggiunte, cancellazioni, rinomenti di file oppure modifiche al contenuto dei file, queste modifiche non vengono tracciate automaticamente per il prossimo commit. Perché queste modifiche compaiono nel prossimo commit, occorre metterle nella staging area. Il commit, quindi, non fa nient'altro che fare una fotografia di che faccia alla staging area al momento del commit. Tutto ciò che non è nella staging area viene ignorato dal commit. Altra cosa importante, la staging area non tiene traccia di file, ma bensì di modifiche e più avanti in questo video andremo a vedere cosa vuol dire tutto ciò. Torniamo quindi al nostro file cancellato. Vedi che il file 2 si trova nella sezione Changes not staged for commit, con una lettera D che significa cancellato, in inglese deleted. Spostiamoci quindi sul file 2 e premiamo la lettera U. La lettera U serve per spostare modifiche dentro e fuori dalla staging area. Difatti, vedi che file 2 ora si trova nella sezione Changes to be committed, ovvero il modo in cui TIG chiama la staging area. Se ora io facessi un commit, mi ritroverai il file 2 cancellato nel commit. Ma non lo faccio ancora, perché voglio farti vedere una funzionalità molto utile. Togliamo la cancellazione di file 2 dalla staging area premendo sempre U. Vedi che ora la cancellazione di file 2 è tornata nella sezione Changes not staged for commit. A questo punto, se mi sono accorto di aver cancellato il file 2 per sbaglio, posso premere punto esclamativo per fare un revert, cioè portare la modifica allo stato in cui era nello scorso commit. Dopo aver dato conferma, nota come la cancellazione del file 2 non è più presente. Se esco da TIG, vedi che file 2 è stato ripristinato allo stato in cui era il nostro ultimo commit. Molto bene, eliminiamolo di nuovo. A questo punto, rinominiamo file 3 in file3.c. Torniamo al nostro TIG e vediamo cosa è successo. Nella sezione Changes not staged for commit, vediamo che sono stati cancellati sia file 2 che file 3 e nella sezione Untracked files abbiamo file 3.c. Proviamo a premere U su tutti e tre i file. Nella staging area è successa una cosa interessante. Abbiamo file 2 cancellato così come ce l'aspettavamo. Poi abbiamo file 3.c con una lettera R che sta per rinominato. Questo perché git è abbastanza intelligente da vedere che se un file è stato cancellato ed abbiamo un nuovo file con lo stesso contenuto del file cancellato, allora viene trattato automaticamente come una rinomina. Ottimo, facciamo quindi un commit. Ok, ora andiamo a cambiare il contenuto del file 3.c facendolo diventare un programma C in tutto e per tutto. Sto utilizzando il linguaggio C in questo esempio perché per scrivere il classico salve mondo ci vuole più di una linea di codice ed il fatto di avere file composti da più di una linea di codice ci aiuterà a dimostrare alcune funzionalità di git più avanti. Torniamo al nostro fidato tig e mettiamo le modifiche a file 3.c nella staging area. Torniamo al nostro editor e la parola salve la trovo un po' troppo neutrale. Dal resto i nemici sai da che parte stanno ma i neutrali chi può dirlo? Quindi cambiamo la parola salve con ciao per essere più amichevoli. Salviamo ed usciamo e torniamo al nostro amico tig. Nota come ora abbiamo delle modifiche al file 3.c sia nella staging area che nelle sezioni Changes non staged for commit. Se andiamo a vedere le modifiche nella staging area vedi che è tutto il nostro bel file c con salve mondo. Mentre invece le modifiche fuori dalla staging area sono il cambiamento da salve a ciao. Ora ho tre possibilità. La prima è fare subito un commit. Il commit terrà conto del file c con la scritta salve mondo ed avrò ancora le modifiche con la parola ciao al posto di salve fuori dalla staging area. La seconda possibilità è quella di scartare queste modifiche nello stesso modo in cui abbiamo scartato l'eliminazione del file 2 poc'anzi. Il risultato sarebbe che mi ritrovo col file 3.c che contiene salve mondo cioè ho scartato tutte le modifiche che non si trovano nella staging area. La terza possibilità è quella di mettere anche questa modifica nella staging area. Attenzione! Se scelgo questa opzione le due modifiche che ho fatto al file 3.c verranno considerate come una sola modifica. Quindi, se scelgo questa opzione e poi me ne pento verranno scartate entrambe le modifiche e mi ritroverei col file 3.c che ha come contenuto semplicemente la stringa file 3. Detto questo, scegliamo la prima opzione e facciamo un commit. Molto bene, ora ci ritroviamo con la staging area vuota e le modifiche pronte per essere messe nella staging area. Mettiamo quindi le modifiche nella staging area e facciamo un altro commit. Ottimo, ora che abbiamo fatto un po' di commit abbiamo già abbastanza materiale per parlare di history ma questo lo vedremo nel prossimo video Grazie dell'attenzione ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey trovi tutti i link in descrizione al prossimo video Ciao